...di questo splendido garden che è il Garden Europa di Cherubini a Padenne del Garda quindi grazie a Roby di essere venuta questa sera, sono questa sempre presissima e quindi essere presente a volte diventa difficile grazie a tutto il mio staff che mi accoglie sempre a braccia aperte abbiamo degli allestimenti splendidi, qui abbiamo qualcosa, dei bouquet bellissimi avete anche aperto questo corner dedicato al fiore del Ciso con questi splendidi bouquet quindi se vogliono dare le due parole e i saluti al nostro pubblico sei super gravita sempre, grazie allora io vi ringrazio e sono molto felice di essere qui con Barbara perché è una donna straordinaria, è una donna che ha un grande amore per il suo lavoro e questo per me, le donne sono sempre il numero uno quindi questa è la cosa principale la mia azienda, diciamo, è conosciuta, è tanti anni che facciamo questo lavoro lo facciamo sempre con amore e vogliamo sempre essere forti in tutto diciamo una parte dove noi picchiamo molto il fiore fresco e nell'ultimo anno lo stiamo sviluppando, diciamo, molto bene e niente, comunque noi siamo felici di essere qua a rappresentare la nostra azienda che ecco è conosciuta e consolidata da anni perché Barbara è una donna molto in gamba e molto avanti quindi questo è importante stare vicino alle persone avanti grazie a tutti Roberta Cherubini, grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti